La classifica per l'Isernia rimane buona, ma la San Benedettese ha fatto ritornare con i piedi a terra i biancocianesti, che non sono mai entrati in partita, grazie a una superlativa prova dell'undici di Mancinelli, che ha comandato il gioco a suo piacimento, per tutti i 90 minuti. La San si porta a casa tre punti, con due gol per tempo, e se non ci fosse stato Draghi, il passivo per l'Isernia sarebbe stato molto più pesante, modello Sinner. Farrocco schiera la stessa squadra che ha vinto a Sora, ma questa volta è mancata nell'uomo contro l'uomo, che è stato sempre a vantaggio degli ospiti, che con Battista, Leonardo e Eusepi, hanno sempre vinto il duello con i giovani difensori dell'Isernia, apparsi troppo evanescenti ed incerti. Isernia versione Titanic, con la da picco, senza offrire la minima resistenza di fronte all'uragano Samb. Al nono il giovane francese, combi un'ingenuità difensiva su Battista, su punizione dei 20 metri, Guadaluppi manda di poco alto. Al decimo, il miracolo di Draghi, su colpo di testa di Candellori. Al dodicesimo, ancora la Samba pericolosa, con il colpo di testa ravvicinato di Leonardo. Draghi salva, con un portentoso colpo di Reni. Al ventitresimo, gli ospiti per poco non vanno in gol, con l'imprendibile Leonardo, che approfitta di una dormita generale della difesa locale. Al venticinquesimo, gli uomini di Mancinelli pervengono al vantaggio, grazie a un pasticcio difensivo. Leonardo si trova al punto giusto, al momento giusto, ed a porta sguarnita non ha difficoltà a depositare la palla in rete. Liserni accusa il colpo e soprattutto si sente la mancanza in difesa di Gimenez. Sulle ali dell'entusiasmo, gli ospiti premono sulla fascia destra, dove Leonardo e Battista vengono controllati con difficoltà dai giovani francesi. E al ventottesimo è Guadaluppi, che con un tiro a giro cerca di sorprendere Draghi, che devia in angolo. E lo stesso Draghi, dopo due minuti, a salvare di piedi su un tiro di Keriota. Al trentatresimo, l'unico timido tiro in porta dell'Isernia con Cascio, che non impensierisce il giovane Orsini. Al quarantunesimo, la Samba raddoppia, con lo scatenato Leonardo, il migliore in campo, che di testa mette in rete. Draghi tenta l'uscita, ma non riesce a evitare il raddoppio. Allo scadere lo scatenato Leonardo, ancora con un sinistro insidioso, ad andare vicino alla terza marcatura, che non si fa attendere, arriva proprio all'inizio della ripresa. Al primo, gettando nello sconforto i 1300 sostenitori di fede bianco-celeste e mandando in estasi i 500 tifosi giunti da San Benedetto, con il terzo gol personale di Leonardo, che si porterà a casa il pallone. Partita in salita per i bianco-celesti anche nella ripresa. Mister Farrocco effettua qualche sostituzione, ma il gioco non migliora. È sempre la Samba a menare le danze e a comandare il gioco a suo piacimento. Al quindicesimo Draghi effettua due parate miracolose, risultando alla fine il migliore dei suoi. L'ingresso in campo di De Filippo migliora qualcosa, ma la difesa della Samp, imperniata sull'ottimo Gennari, fa buona guardia. Al ventottesimo arriva il quarto gol degli ospiti, realizzato da Keriota. Termina così una gara meritatamente vinta dagli ospiti, che hanno un organico di categoria superiore. L'Isernia dovrà meditare sugli errori. Una squadra che, se non approccia mentalmente la gara con la massima umiltà e concentrazione, rischia di fare brutte figure. Con il ritorno di Gimenez, mister Farrocco potrà contare su un assetto difensivo diverso e dovrà lavorare in settimana soprattutto sull'aspetto psicologico per recuperare i suoi. Una difesa che subisce troppi gol, la peggiore del campionato, con 16 gol subiti dopo nove giornate, insieme all'Avezzano. Ma è una squadra giovane, c'è tempo per migliorare le cose. La sua ambizione è salvarsi e, se giocherà come ha fatto finora, potrà riuscirci. Prossima tappa per l'Isernia nella Tana della Civitanovese, mentre la Samb affronterà in casa l'Ancona.